E' un progetto che la Camera di Commercio di Arezzo porta avanti da ben 25 anni e che da quest'anno diventa un progetto di sistema con l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, grazie a un accordo quadro che è stato firmato nella sede dell'ente camerale Aretino. Stiamo parlando dell'alternanza scuola-lavoro che adesso, con la legge della buona scuola, è diventata obbligatoria in tutta Italia e sul quale la Camera di Commercio di Arezzo è stata un precursore, lanciando già l'attività nel 1992. Abbiamo firmato un protocollo e contestualmente abbiamo presentato la 25esima edizione del progetto Scuola-Lavoro. Sono 25 anni che la Camera di Commercio accompagna giovani a fare degli stage in azienda, 8.000 giovani accompagnati in questi 25 anni di attività. Quest'anno ripartiamo con la novità di questo protocollo d'intesa, un protocollo che consente ai ragazzi, 280 che quest'anno parteciperanno al progetto Scuola-Lavoro, di fare degli stage che consentono di assolvere l'obbligo formativo in azienda di 200 ore e 400 ore previsti dalla legge. È un accordo che abbiamo siglato fra Camera di Commercio di Arezzo e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, proprio perché è una buona pratica che può essere diffusa e portata su tutto il territorio a livello regionale come elemento di una delle esperienze più ricche che sono state costruite. Nel corso della presentazione dell'accordo sono stati consegnati ai partecipanti del percorso formativo Crescere Imprenditori gli attestati di frequenza. Hanno aderito al progetto 14 giovani aspiranti imprenditori che hanno seguito un percorso di 80 ore, di cui 20 di assistenza personalizzata alla redazione di un business plan propedeutico all'inizio dell'attività. È stato un progetto e un'esperienza veramente utile, soprattutto perché va a colmare quel gap che c'è tra lo studio teorico e il lavoro dal punto di vista pratico. I docenti e anche i professionisti erano veramente qualificati e anche molto bravi a trasmettere le loro conoscenze. Con il tuo specifico ha avuto anche uno sbocco concreto? Sì, nel mio caso ho messo nel curriculum questa esperienza e questo mi ha permesso di ottenere l'opportunità di fare un tirocinio in Turchia e ad Ancara. Il saper redigere anche un business plan che era uno dei punti del programma è molto apprezzato dal punto di vista pratico.